Assalamu alaikum a tutti, ciao a tutti. Allora, oggi facciamo la seconda parte di quel ragionamento in base a tutto quello che possiamo sapere sul coronavirus e su quello che presumibilmente c'è dietro e quello che presumibilmente potrà succedere nel futuro. Allora, comincio dalla fine, nel senso che comincio da Papa Francesco oggi. Perché Papa Francesco? Perché Papa Francesco è stato praticamente il primo, forse insieme a pochissimi altri politici, ma sicuramente uno dei primi se non il primo, a cercare di vedere il positivo in questo coronavirus, cioè a trarne delle insegnamenti e opportunità di cambiamento in positivo. Lui ha visto subito che questa fase di blocco dell'economia portava un po' tutti i paesi, ma anche le persone, a non potersela cavare da soli, quindi ha intuito subito che la via maestra da seguire è quella di sempre, che questo coronavirus non deve indebolire, ma teoricamente dovrebbe rafforzare in tutti gli uomini dotati di buona volontà e di raziocinio, cioè la strada maestra della solidarietà e del reciproco rispetto, della conoscenza reciproca a livello mondiale. Questa cosa è stata recepita anche da alcuni politici, lo stesso Conte, questo indipendentemente dalle mie simpatie o antipatie con Conte, non ho nessuna né simpatia né antipatia particolare nella persona di Conte, anche del suo operato, e l'operato a mio parere va giudicato alla fine, adesso mi sembra un po' presto. Comunque sia, lui insieme a qualche altro politico del nostro governo hanno anche loro messo l'accento sulle opportunità, in questo caso riguardanti l'Europa, di operare una svolta in senso solidaristico, in senso appunto di superamento degli egonismi anche nazionali, verso appunto una unità maggiore, quindi approfittare del coronavirus, anche dal punto di vista delle misure economiche, delle contromisure da prendere di cui si sta parlando ancora in questi giorni, di approfittare e vederla come un'opportunità per dare una sterzata, ma appunto in senso comunitario, nel senso del rafforzamento dell'Unione Europea e nel senso del rafforzamento del contributo di tutti all'Unione Europea in maniera sempre più paritaria. Questo appello del Papa è stato raccolto in maniera fantastica da un personaggio altrettanto fantastico che si chiama Muhammad Yunus, è praticamente scritto un famoso libro intitolato Il banchiere dei poveri ed è stato insignito anche del premio Nobel per l'economia in quanto è stato praticamente l'inventore del microcredito, cioè quella forma di credito che ha contribuito poi a sollevare popoli, gran parte della popolazione, specialmente in Bangladesh, dalla povertà. Su Muhammad Yunus, se Dio vuole, al più presto farà una puntata specifica perché lo merita assolutamente. La persona è quello che ha scritto, è quello che ha fatto, soprattutto è qualcosa di assolutamente fantastico. Ecco, Muhammad Yunus dice che la portata dei disastri provocati dal virus è sconvolgente, però nonostante questo, i danni e tutto quello che vogliamo, siamo davanti a un'occasione senza precedenti. Ecco, quindi lui condivide totalmente la posizione di Papa Francesco, Muhammad Yunus, ricordiamo, un musulmano del Bangladesh. Lui dice riportiamo il mondo nella situazione nella quale si trovava prima del coronavirus o lo ridisegniamo da capo? La decisione spetta soltanto a noi. Ecco, lui dice che abbiamo un'occasione per ridisegnare il mondo. Ed ecco come descrive la positività della situazione. All'improvviso il coronavirus ha cambiato radicalmente il contesto delle cose e i dati spiccioli. Ha spalancato davanti ai nostri occhi possibilità temerarie che non erano mai state prese in considerazione in precedenza. All'improvviso eccoci di fronte a una tabula rasa. Possiamo andare in qualsiasi direzione vorremmo. Che incredibile libertà di scelta. Ecco, questo è molto importante. Questa tabula rasa con tutta la negatività che indubbiamente ha presenta incredibili possibilità di cambiamento perché praticamente tutto il mondo parte da zero. Possiamo iniziare progettando l'hardware e il software su uno schermo praticamente vuoto. Ecco, questo è l'esempio che lui fa. Non vado oltre perché questo articolo vale la pena di leggerlo e analizzarlo per bene perché è un articolo bellissimo e molto denso di proposte molto pratiche però appunto merita il suo spazio e ne parleremo se Dio vuole al più presto in un'altra puntata. L'articolo perché intanto lo vuole leggere si chiama Coronavirus IUNUS non torniamo al mondo di prima. Cliccando su Google lo trovate è stato pubblicato da Repubblica Repubblica Online. Tornando a Papa Francesco mi fermo ancora un attimino su di lui perché ho ascoltato alcune trasmissioni sul web in questi giorni riguardanti il virus filmati, trasmissioni, talk, show, collegamenti con varie persone eccetera. Ultimamente nell'ultima puntata della Forme d'Onda che io ascolto sempre è una trasmissione che invito tutti ad ascoltare e che è sempre molto interessante ospitavo una specie di tavola rotonda tra varie persone all'interno della quale a un certo punto si è ipotizzato che ci fosse in atto una specie di abbandono di Papa Francesco o di sì una specie di stato di prostrazione e di abbandono della lotta da parte di Papa Francesco. Uno dei segni presunti segni della resa di Papa Francesco sarebbe il fatto che sarebbe apparso negli ultimi giorni senza l'anello piscatorio. L'anello piscatorio sarebbe praticamente un anello considerato una delle insegne del Papa questo anello gli viene dato costruito apposta per lui per il nuovo Papa nel momento stesso dell'insegnamento cioè quando diventa Papa infatti c'è scritto il nome del Papa e c'è un'immagine che raffigura San Pietro mentre getta le reti per pescare dalla sua barca insomma era utilizzato anche come sigillo per i documenti papali quindi è stato visto senza questo anello tutto questo porterebbe a pensare a delle imminenti dimissioni o a una resa di Papa Francesco ma questo non ha nessun fondamento Papa Francesco era semplicemente nei primi giorni del virus infatti chi ha visto le immagini di ieri le ultime immagini sono già immagini di persona che sta nettamente meglio ma i primi giorni del virus era scosso come tutti quindi dimostrava una preoccupazione è diciamo così un morale basso ma questo non significa chi dice che Papa Francesco si sia reso si sia rendendo o ci sia qualcosa del genere non conosce per nulla Papa Francesco Papa Francesco ha un atteggiamento verso il tutto verso l'universo verso la religione estremamente misericordioso ma il carattere è molto molto forte il carattere di Papa Francesco è uno che va avanti per la sua strada in maniera molto anche lui definisce se stesso come molto testardo quindi non è non è proprio il tipo che si arrende ecco e tra l'altro a proposito di Papa Francesco proprio ieri sera nella trasmissione di Report hanno fatto un bellissimo una bellissima inchiesta sui nemici di Papa Francesco e i finanziatori questa puntata è inutile che ve la sintetizzo vale la pena di vederla andate su Raiplay ci sono tutti i podcast e la trovate la puntata si chiama Dio Patria Famiglia S.P.A. e quindi descrive come descrive un po' il mondo di questi tradizionalisti cattolici che definiscono arrivano anche a definire Papa Francesco come l'anticristo insomma danno molti dati che bisogna per avere un quadro completo vedere tutta la puntata la sostanza è che questi sono coloro che finanziano il movimento anti-bergoglio in tutto il mondo e ultimamente hanno riversato un miliardo di dollari in Europa dall'America ecco sono soldi che arrivano dall'America dagli Stati Uniti d'America per finanziare chi lotta contro un bergoglio quindi una marea di soldi perché questo perché ci sono evidentemente interessi più geopolitici che religiosi infatti la stessa inchiesta dice che questi finanziamenti vanno nella direzione di lottare contro Papa Francesco e lottare anche contro l'Unione Europea quindi questo conferma la mia analisi e si inserisce perfettamente nel quadro di certa massoneria americana dei pentalfiani in particolare che mirano a distruggere l'Unità Europea per ricondurre l'Europa sotto l'ombrello Nato e il controllo americano e questa inchiesta dice anche che uno delle persone principali delle figure principali di questo movimento anti-bergoglio è il cardinale Burke lo dico come scritto sembra che si pronunci Burke questo cardinale Burke è tra l'altro anche patrono dell'Ordine di Malta Ordine di Malta con cui Francesco ha avuto motivi di conflitto recentemente e che pare abbia condotto una causa civile contro il Vaticano vincendola per qualche milione di dollari ma comunque questo Ordine di Malta è praticamente l'avanguardia di questi anti-bergogliani il cardinale Burke è poi anche presidente della fondazione Sciacca di cui fa parte anche Salvini come presidente della Dignitatis Humane che è un'organizzazione con cui collabora anche Bannon l'americano Bannon che è un altro degli elementi che provengono dagli Stati Uniti che è invischiato in questa in questa rete Bannon aveva a che fare anche con società che hanno contribuito alla famosa Brexit della della Gran Bretagna dall'Europa all'uscita della Gran Bretagna dall'Europa quindi è coinvolto pienamente in questo progetto che come vediamo vede contemporaneamente persone che lavorano contro Papa Francesco e per l'implosione dell'Europa come ha detto il giornalista Ranucci direi tre quindi la famosa Certosa Trisulli dove si dovevano organizzare una scuola per sovranisti doveva essere chiusa poi invece in realtà risulta ancora aperta e c'è una causa al Tar in corso vedremo come va a finire ma tutti questi personaggi sono collegati da due fattori la lotta contro Papa Francesco e la lotta contro l'Europa e c'è da dire che nella fondazione Sciacca di cui è presidente Burke e dove c'è Burke e dove c'è anche Salvini abbiamo una lunga lista di militari e anche di italiani appartenenti ai servizi segreti il che è tutto dire poi per non farci mancare niente ci sono anche alcune inchieste a portare alla luce intercettazioni dove Burke parla di assegnazioni di posti al governo a esponenti della Lega che a loro volta avevano rapporti con mafiosi quindi c'è un bel giretto su cui chi vuole poi può andare ad approfondire quindi questo per dire che il discorso della solidarietà non è un discorso fatto solo di chiacchiere ma un discorso politicamente pericoloso è un discorso politicamente contrario a certa da sempre a certa massoneria neoristocratica in particolare la Torpentalfa in questo caso ma il concetto di solidarietà è nettamente contrastante con tutta la politica di tutte le orloge neoristoratiche come ci insegna il libro di Gioele Magaldi che ho citato anche nella prima puntata peraltro lo scontro sull'Europa continua e un'altra cosa che ho sentito nella ultima puntata di Forme d'onda è l'opinione secondo la quale la Merkel sarebbe stata esautorata da non meglio identificati Deep State tedeschi che ci sarebbe stata una specie di colpo di Stato avvalorato dal fatto che sono alcuni giorni che la Merkel non si vede l'ultima volta che si è vista aveva sempre lo stesso vestito ma stamattina sono arrivate delle dichiarazioni che smentiscono tutto questo ci sono state dichiarazioni della Merkel tra l'altro con vestiti nuovi sgargianti una Merkel apparsa in grande forma che ha detto ufficialmente sì all'apertura di un debito comune cosa che sembrava fino adesso o perlomeno in media ci dicevano fino adesso che la Germania avrebbe rifiutato e ha detto sì anche ad ampliamento allargamento del bilancio dell'Unione Europea e questo andrebbe contro quell'immagine che si è data sui media fino adesso di Germania contro l'Italia e tutte queste sciocchezze similari o meglio sono posizioni che rappresentano la speranza di certe persone di certi ambienti ma la speranza non è evidentemente la realtà tra l'altro la Merkel avrebbe fatto anche dei rimproveri al suo stesso partito avrebbe parlato di orgia di discussioni le discussioni che si sarebbero create all'interno del partito contro le misure sul partito l'assidio contro le misure sulla ripresa dell'attività che appunto anche lì ci sono politici che spingono per un'apertura più più larga e via dicendo e la Merkel gli ha dato diciamo una bella strigliatina e gli ha detto di darsi una calmata e di evitare discussioni oziose perché se ci sono motivi di sicurezza ci sono motivi di sicurezza quindi da queste dichiarazioni non sembra affatto che la Merkel sia stata esatorata non sembra che ci sia stato alcun colpo di Stato non sembra che la Merkel vada contro l'Italia contro l'interesse ma sembra tutto il contrario non ricordiamoci che la contrarietà alle misure a favore dei fondi comuni proposti dall'Italia era arrivata dall'Olanda e non dalla Germania la Germania aveva cercato di mediare di non creare fratture con l'Olanda ma non è partita nessuna posizione nettamente negativa dalla Germania né dalla Francia tanto è vero che anche la Francia poi si è accodata alla posizione di Conte e quindi anche la Merkel ufficialmente ancora più ufficialmente chiaramente di Conte ha preso posizione per una posizione comune dell'Europa riguardo ai provvedimenti finanziari che vanno presi quindi sembra che vada in direzione delle cose richieste dall'Italia le cose richieste da Conte per oggi ho appena sentito il telegiornale per oggi tra l'altro si attende una telefonata di Macron a Papa Francesco e anche questo mi sembra molto significativo e a mio parere molto positivo sulla strada che stanno prendendo i politici europei per lo meno come intenzioni e come dichiarazioni poi naturalmente tutto va valutato alla luce dei fatti Macron ha tra l'altro dichiarato che l'Europa deve prendere misure comuni che vadano incontro all'esigenza di tutti i paesi specialmente di quelli che hanno più in difficoltà altrimenti vinceranno i nazionalismi ecco quindi Macron ha dichiarato pubblicamente chiaramente che ci sono i nazionalismi che vanno in direzione contraria che quindi cercano di sobbillare qualsiasi divisione per poi sfasciare l'Europa ovviamente bisogna avere chiara il fatto che se si sfascia l'Europa si va specialmente l'Italia si va in bocca alla Nato questo è chiunque parli di Europa che non va Europa brutta e cattiva la Merkel come Hitler deve avere ben presente che non ci sono altre soluzioni se si esce dall'Europa si va in bocca e in mano completamente alla Nato e agli americani altri dati che confermano questa mia impostazione cioè del fatto di queste forze che lavorano per lo sfascio dell'Europa vi ho detto nella puntata scorsa che negli ultimi anni praticamente tutti gli attentati terroristici sono stati diretti contro la Francia e la Germania vi ho accennato al patto di Aguisgrana ebbene questi attentati contro la Francia e la Germania ci sono stati anche in questo periodo anche se minimizzati dai mass media e ci sono stati quindi anche in questo periodo attentati in Europa in Germania ad esempio il giorno 8 aprile c'è stato un incendio nel castello di Berlino lo Stad Schloss che è un edificio storico che risale al XV secolo ai tempi della residenza imperiale eccetera ed era recentemente in fase di ristrutturazione quindi è stato dato alle fiamme i danni sono stati ingenti anche se la cosa è stata secondo me che è cosa che secondo me senza dubbio un attentato è stato spento dai vigili del fuoco dopo poche ore ma questo appunto è un 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 edificio storico quindi colpendo questo si vuole colpire chiaramente la germania in quanto in quanto nazione ricordiamo poi l'incendio che appunto stabilisce un'altra analogia l'incendio di Notre Dame lo scorso anno negli scorsi mesi adesso non ricordo esattamente quando è successo qualche tempo fa un attentato terroristico c'è stato anche in Francia il 4 aprile con un bilancio di due morte e cinque feriti il solito pazzo apparentemente pazzo un'aggressione con un coltello nel sud-est della Francia e anche noi in Italia abbiamo avuto il nostro attentato per lo meno a mio parere si tratta di un attentato l'incendio all'archivio del tribunale di Milano secondo me è un attentato anche questo anche se ci possono essere delle motivazioni relativi a processi documenti di archivio che si intendevano far sparire ma secondo me questa cosa coglieva tutte e due gli obiettivi forse anche quello di far sparire qualcosa dagli archivi ma l'obiettivo più importante è il messaggio di chiaramente minaccia nei confronti del governo italiano non dimentichiamo che questo governo è un governo diciamo così per lo meno teoricamente politicamente avverso al sovranismo e quindi è un governo che sicuramente per lo meno non nella sua totalità fa parte ed è alleato dei progetti della Ator Pentalfa altre cose da rilevare sono le posizioni prese contro l'OMS ecco partiamo da Trump Trump ha ha espresso nei giorni scorsi molte proteste contro l'OMS dichiarandolo a servito la Cina e via dicendo e l'ultima notizia è che Trump ha deciso di sospendere i finanziamenti all'OMS questo fa il paio con la notizia di oggi che dice in cui Trump ha fatto la dichiarazione di aver dato l'ordine esecutivo di sospensione dell'immigrazione ecco entrambi questi 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 atti queste dichiarazioni vanno nel senso che conferma la mia la mia visione la mia ipotesi perché vanno nel senso di un isolamento isolazionismo del isolamento della società americana rispetto al grande grande diciamo così la grande globalizzazione mondiale ma infatti lo stesso Trump si è anche ha anche fatto riferimento esplicito al fatto che la globalizzazione è fallita ecco in questo senso Trump agisce sulla stessa linea dei pentalfiani anche se invece per altri per altri fatti non era esattamente così Trump è uno come ho già detto che è un massone ma non appartiene a orologi internazionali sembra Magaldi dice che è stato messo lì addirittura dai massoni progressisti per contrastare l'ascesa di Jeb Bush e quindi sostanzialmente è una persona che ha una sua politica una sua idea personale sostanzialmente isolazionista di grandezza dell'america che cerca di implementare questa sua politica personale che ovviamente a volte va d'accordo con il progetto del deep state dei pentalfiani in questo caso i pentalfiani non lo ostacolano a volte contrasta come ad esempio è successo in Medio Oriente in Siria Trump ha dichiarato più volte di volere andare via ma l'esercito americano sta ancora lì perché i pentalfiani hanno forti agganci nell'apparato militare quindi sono ancora lì vicino al petrolio tra l'altro la stessa cosa è successa in Afghanistan dove Trump è riuscito ad avere un accordo con i talebani era cominciato anche lo sgombero ad andare via dall'Afghanistan il giorno dopo questo accordo con i talibani ci sono stati attentati rivendicati dall'Isis che sappiamo essere creatura dei pentalfiani quindi da una parte Trump ha il via libera diciamo ha il via libera davanti dei pentalfiani e a volte invece no per quanto riguarda l'OMS si che ha mostrato molti lati oscuri molte pecche in questa vicenda bisognerà poi indagare per vedere tante cose come sono andate e via dicendo però c'è da dire che l'OMS è comunque un'organizzazione internazionale con tutti i suoi difetti come l'ONU è un'organizzazione che tenta di racchiudere in sé le istanze dei diversi paesi e quindi ovvio che queste organizzazioni plurinazionali spesso mostrano delle pecche mostrano dei vantaggi per i paesi e per altri paesi svantaggi o comunque vantaggi meno visibili ma questo fa parte comunque di tutte le organizzazioni internazionali e non è detto che di per sé questo indichi che quelle organizzazioni siano da abolire comunque questo vale per l'Unione Europea vale per l'OMS vale per l'ONU e per tutte le organizzazioni internazionali sono perfettibili vanno perfezionate e migliorate bisogna lottare a volte anche ferocemente per migliorarle ma smantellarle non può che far comodo alle varie urlogge specialmente alla urlogge come quella dei pentalfiani ecco un esempio di una posizione diversa da quella di Trump che ha tolto subito i suoi finanziamenti è quella del premier giapponese Shinzo Abe che anche lui è stato molto critico nei riguardi dell'OMS però ha detto queste questioni le guarderemo dopo l'epidemia d'economia sarà finita ci sono delle cose che non vanno che vanno riviste ecco questa è una situazione è una posizione normale realistica e obiettiva che indica che Shinzo Abe non è ostaggio di certi poteri e che conferma la visione che vi ho detto nella puntata scorsa in cui Shinzo Abe era una persona che andava contro gli interessi dei pentalfiani in quanto stava operando una politica di riavvicinamento nei confronti della Cina bene aggiungo un altro paio di cose sul virus coronavirus questa cosa è collegata con Trump perché Trump pare abbia esautorato Anthony Fauci cioè il virologo degli Stati Uniti insomma il responsabile sanitario praticamente perché criticava le misure prese da Trump o perlomeno aveva espresso alcune critiche anche se non direttamente c'è da dire che Anthony Fauci aveva detto recentemente che era inutile parlare di vaccini perché essendo questo un virus RNA praticamente era soggetto a cambiare in continuazione e quindi è del tutto fuori luogo pensare a un vaccino questo praticamente scagionerebbe Bill Gates quindi un'ulteriore conferma alla mia tesi della puntata scorsa per cui c'era chi aditava come il grande vecchio dietro a tutta questa storia di coronavirus come Bill Gates per i guadagni che avrebbe avuto dal vaccino un'altra cosa che conferma questa visione di cose è il fatto che in Corea del Sud notizia mi pare dell'altro ieri in Corea del Sud abbiamo 168 casi di persone che sono si sono riammalate dopo essere completamente guarite quindi tutto quello che abbiamo finora tende a togliere la questione vaccini come questione decisiva per chi ha pensato e messo in opera questa arma batteriologica poi un'altra persona abbastanza famosa importante come il premio Nobel Montagnier anche se molto discussa ha un passato dove c'è anche una condanna per truffa e da la fama non molto rassicurante di cui lui praticamente ha inventato una malattia che non esiste cioè l'AIDS comunque questo Montagnier avrebbe dichiarato in un video che questo virus è stato fatto non è naturale ma è stato fatto in laboratorio questo appunto coincide con quello che risulta finora o perlomeno si avvicina a quello che risulta finora naturalmente poi invece i sospetti lanciati sulla Cina e su Wuhan naturalmente sono secondo me invece lontani dalla realtà in quanto come ho spiegato nella puntata scorsa Wuhan è un laboratorio internazionale dove ci lavoravano vari paesi non era un laboratorio cinese e poi tra l'altro è stato anche detto che il coronavirus non ha nulla a che vedere con quello che si era fatto a Wuhan e quindi questa cosa qui non risulta neanche come logica perché anche nell'eventualità che la Cina volesse impiantare un'arma batteriologica sicuramente non lo fa in un laboratorio dove ci sono altri paesi presenti insomma la Cina non è che gli mancano i mezzi per mettere ovunque dove vuole laboratori segreti per le armi batteriologiche e poi come ho detto all'inizio della puntata scorsa la cosa più importante è che da notare che la Cina è il primo paese colpito da questo virus in quanto se ne va a gambe all'aria perlomeno al momento tutti i colossali accordi firme tutto il progetto della nuova via della seta è assolutamente bloccato finisco questa puntata con considerazioni sul fatto del rendere pubblico o meno il fatto che il virus sia un'arma batteriologica in realtà nessuno dei potenti perlomeno ha interesse a dire la verità perché l'eventuale aggressore cioè chi ha ha usato questa arma in maniera aggressiva cioè per colpire il proprio nemico non ha nessun interesse a dire che si tratta di un'arma batteriologica perché moralmente questa cosa ereticamente non è del tutto insostenibile nei confronti dell'opera pubblica e l'aggredito per motivi diversi anche lui non ha interesse a dire una cosa del genere perché spaventerebbe e terrorizzerebbe l'opinione pubblica senza del proprio paese senza nessun motivo e senza nessun vantaggio neanche per i paesi colpiti quindi questo spiega il perché anche la Cina che sicuramente sa benissimo come stanno le cose non dica la verità sebbene lo abbia fatto lo abbia fatto trapelare e poi anche perché una volta detto che gli Stati Uniti sono gli autori dell'arma batteriologica dovrebbe fare la guerra agli Stati Uniti quindi se non ha voglia di farla non ha nessun interesse a dirlo ecco quindi l'interesse di tutti a tacere questa cosa ecco concludo con una descrizione delle caratteristiche del virus secondo gli ultimi studi cioè gli studi aggiornati sulla costituzione e le caratteristiche del coronavirus ve lo leggo pari pari come è apparso questo questo articolo in un post su Facebook a cura di Roberto Echic ecco il post quella perfetta macchina da guerra chiamata Covid-19 trascrivo un messaggio arrivato da un mio amico che è direttore di un prestigioso istituto europeo di biologia molecolare e genetica fa capire perché questo virus è un perfetto meccanismo così infettante da creare un'alta mortalità anche se una bassa letalità per certi versi mirabile riassume qui alcune caratteristiche che illustrano il perché sia una macchina tanto efficiente di infezione e replicazione capirete che tutto è ottimizzato in questo virus è un envelope virus cioè una membrana di lipidi ecco perché i detergenti lo uccidono con le glicoproteins e spikes per attaccarsi al recettore ed entrare nella cellula si lega a vari recettori il più conosciuto dei quali è ACE2 ma ce ne sono altri questo significa che ha varie chiavi per entrare e infettare ha un nucleo capside che contiene l'RNA vitale virale l'RNA virale fin qui è più o meno il solito virus tuttavia ha varie altre proteine accessorie ecco il bello viene adesso proteine accessorie NSP1 chiamato sabotatore cellulare blocca la sintesi di proteine cellulari per fare solo quelle virali NSP4 6 aumentano l'efficienza della replicazione dell'RNA virale in una sorta di catena di montaggio NSP7 tratto 8 proteine accessorie per aumentare l'efficienza della replicazione dell'RNA di SP12 la copiatrice del genoma virale NSP14 controlla che le copie dei genoma virali siano corrette e ne ripara gli errori ne ripara gli errori NSP9 si infila nel nucleo della cellula infettata per bloccarne le funzioni NSP10 o proteina mimetica per far credere al sistema di difesa cellulare che gli RNA virali non sono virali e quindi non devono essere attaccati lo ripeto proteina proteina mimetica che serve a far credere al sistema di difesa cellulare che gli RNA virali non sono virali e quindi non devono essere attaccati questa viene aiutata da NSP16 ORF3A soprannominato l'artista della fuga fa buchi nelle membrane della cellula e aiuta i virus a uscire ORF6 signal blocker fa in modo che il sistema immunitario non riconosca le cellule infettate fa in modo che il sistema immunitario non riconosca le cellule infettate ORF7A diffusore di virus rimuove le proteine cellulari che ostacolano la diffusione del virus e induce la cellula infettata a suicidarsi aumentando quindi il danno polmonare ripeto diffusore di virus rimuove le proteine cellulari che ostacolano la diffusione del virus e induce la cellula infettata a suicidarsi aumentando quindi il danno polmonare e questa non è una descrizione completa di cos'altro può fare, ma credo vi dia l'idea. Ecco, una descrizione di questo genere penso che rimangano pochi dubbi sul fatto che si tratti di un'arma batteriologica. Tra l'altro già molte persone, a cominciare da due studiosi cinesi, hanno detto che il virus presentava delle inserzioni da altri virus, inserzioni che in natura non si trovano. Quindi questa cosa non ha nulla, come ho già detto, nulla che vedete con quanto si preparava a Wuhan e quindi non è una cosa che può essere uscita per sbaglio da chissà dove. Finisco l'argomento con la questione della libertà. Quello su cui concordo con quasi tutti è il fatto che questa situazione è presente dei preoccupanti aspetti di limitazione della libertà e quindi mi sembra giusto e concordo con chiunque sollevi dubbi, proteste su queste limitazioni di libertà. Quello su cui non sono assolutamente d'accordo è attribuire questa situazione a una volontà unica a livello mondiale per instaurare chissà che cosa. No, abbiamo visto la realtà ci dimostra che ogni paese ha inventato un suo modo per combattere il virus. Praticamente ogni paese ne ha inventato uno diverso o abbastanza diverso. Di conseguenza questo conferma che non c'è un modello nuovo, conferma che tutti sono stati colti di sorpresa e conferma che ci possono essere diversi modi di controllo sociale. Per esempio il modello coreano, che tutti adesso si preoccupano di questa app che si chiama Immuni che sarebbe in via di applicazione anche in Italia, ma il problema è questo. O con la app o con la chiusura il sistema per combattere il virus bisogna trovarlo una vita normale, però ora non si può continuare. Quindi in qualche maniera questo esiste un motivo giustificabile per cui queste misure vengono adottate. Ripeto, sono d'accordo nel fatto del contrastare le limitazioni non necessarie alla libertà, ma contrasto l'idea che questo venga da un'idea unica, da un progetto unico, da un unico gruppo di persone, il fatto dell'eliminazione della libertà. Riguardo a questo ogni paese sta agendo in maniera diversa. E quindi escludo anche che questo sia il motivo per cui sia stato scatenato questo virus, il fatto di limitare le libertà, perché poi se ogni paese le limita a modo suo evidentemente non si staura nulla di mondiale. Quello che si staura di mondiale, come ripeto e ribadisco a fine di questa puntata, è il blocco dell'economia mondiale, che va nella direzione auspicata e progettata da anni, almeno dal 1995, dalla urloggia massonica Ator Pentalfa. Assalamualaikum a tutti, ciao a tutti e alla prossima puntata.